La situazione è degenerata a tal punto che oltre a non percepire puntualmente gli stipendi ci hanno anche rimesso di tasca propria acquistando per senso del dovere i prodotti necessari a pulire gli ambienti sanitari dell'ospedale di Villa d'Agri. Ma la misura ormai è colma. I 26 dipendenti del consorzio Tesis sono tornati a manifestare davanti alla sede dell'ASPA Potenza chiedendo, e non è la prima volta, una soluzione definitiva all'annoso problema. Una delegazione di lavoratori insieme ai rappresentanti del sindacato di categoria della CGL è stata poi ricevuta dall'ASP. Ad oggi il problema si ripropone, anche perché la scorsa volta ci era stato promesso che gli sarebbe stato rescisso il contratto all'azienda, ma ciò non è avvenuto. Però oggi noi chiediamo una sicurezza, un qualcosa, perché noi non possiamo lavorare senza gli stipendi. Ad oggi sono già tre mensilità arretrate, ci sono maggio, giugno e quattordicesima. A breve finirà anche luglio e si aggiungerà un'altra mensilità. Dobbiamo dare un servizio, garantire un servizio, dobbiamo stare zitte, perché giustamente l'oro, lo stipendio è garantito ogni mese, invece noi no. A parte la pulizia, prestiamo anche ausiliariato, cioè comunque facciamo da supporto agli infermieri. Dobbiamo ricorrere sempre a fare uno sciopero, ma non è giusto. Abbiamo i nostri diritti e li vogliamo essere rispettati e salvaguardati.